Grazie Presidente, Sottosegretario, Onorevoli Colleghi. Da febbraio 2021 ad oggi il Governo Draghi ha posto la fiducia su 25 votazioni, di cui 11 alla Camera e 14 al Senato, per una media di quasi 11 giorni, che è il secondo dato più alto solo dopo il Governo Monti. Ad oggi l'attuale Governo ha blindato con doppio voto di fiducia 7 provvedimenti, per non parlare che il provvedimento del processo penale ne ha ricevuti addirittura 4. Considerando l'ampia maggioranza del Governo dei migliori, perché si è ridotta e compressa la discussione in questo Parlamento? Perché si continua ad evitare il confronto parlamentare su argomenti talmente importanti come mai prima? Ecco, vede, Presidente, Onorevoli Colleghi, oggi siamo qui a parlare, perdonatemi, a comprimere i lavori di un provvedimento importante e delicato come il Green Pass, che si aggiungerà al conteggio delle fiducia fin qui espresse. Il lavoro svolto in Commissione venerdì ne è stata la riprova. Mi permetto di iniziare questa discussione generale riportando un mio pensiero sull'andamento degli episodi avvenuti da qualche settimana a questa parte su vaccini e Green Pass. Non esiste libertà personale in presenza di strumenti che ne limitano l'essenza. Vaccini. Mi preme fare una premessa. Chi parla è un soggetto convintamente vaccinato, con doppia dose, che ha scelto di farlo liberamente ben prima dell'introduzione del Green Pass, strumento surrettizialmente limitante alla libertà individuale, perché non lascia alternativa alla vaccinazione, in quanto, nonostante la vaccinazione non sia obbligatoria, il certificato verde è necessariamente richiesto per accedere ai luoghi di lavoro e, più banalmente, sedersi al tavolo di un ristorante. Una previsione altamente discriminante tra vaccinati e non vaccinati. Bisogna essere molto cauti. Chi ha ragione si pone delle domande, non può e non deve essere tacciato di essere nemico della scienza. In ciò, l'atteggiamento del Governo non ha aiutato a rassicurare i cittadini italiani. L'incapacità del Governo e dell'intera gestione della pandemia non può risolversi magicamente, tacciando noi di Fratelli d'Italia di essere banalmente dei no-vax. E le ragioni le abbiamo motivate ampiamente. La campagna vaccinale deve essere fatta in maniera ponderata, senza alimentare il caos e il terrore dei cittadini. Se siete così sicuri della validità di tutti i vaccini, perché non vi assumete la responsabilità di renderlo obbligatorio, con tutte le conseguenze che la cosa comporta, tra cui il risarcimento in caso di reazioni avverse? Sarà forse la paura di dover pagare centinaia di milioni di euro legati ad effetti collaterali? Lo sollevano dalla responsabilità legata alle possibili conseguenze sulla salute, però lo rende obbligatorio per accedere ai luoghi di lavoro. Uno Stato serio non induce i cittadini a vaccinarsi, sbarrando loro tutte le possibilità di avere una vita sociale senza, ripeto, assumersi la responsabilità non è affatto, libertà questa. Ci sembra che per voi la Costituzione sia mera carta straccia, un contenitore di diritti ma svuotato di ogni contenuto. L'Italia è ormai diventata il Paese delle libertà negate. Abbiamo iniziato con il DPCM e ci siamo evoluti con il Green Pass. Il Green Pass. A chi ci taccia di incoerenza vorrei ricordare che siamo sempre stati a favore della certificazione verde intesa come mezzo utile finalizzato alla mobilitazione dei flussi europei, dopo oltre un anno di blocco agli spostamenti e di immobilismo dei turisti stranieri nel nostro Paese. Lo ripeto, il Green Pass nasce per un motivo, ovvero sia, consentire gli spostamenti tra i Paesi della Comunione Europea e Destra Comunione Europea e sarebbe dovuto entrare in vigore dal 1 luglio 2021, anche per consentire una ripresa del turismo a livello europeo. L'Italia inizia ad applicarlo dal 15 ottobre 2021 ed è paradossale. Tutto ciò, infatti, è iniziato già nel 2020 per poi concludersi in un iter il 1 luglio del 2021. Perché allora non averlo imposto fin dal 1 luglio 2021, come lui ci chiede per consentirci la libera circolazione cercando di ridurre i contagi? Lo ribadisco, noi di Fratelli d'Italia siamo d'accordo sulla vaccinazione, ma non sullo strumento del Green Pass. Perché se deve effettivamente diventare il passaporto verde, non deve essere strumentalizzato per consentire anche l'accesso ai luoghi pubblici e privati. La certificazione verde è un vero e proprio lascia passare, che lede la libertà dei cittadini, anziché agevolarla, come è pensato agli arbori della sua introduzione nell'Unione Europea. Dati. Il bollettino del 15 ottobre 2021, giorno di introduzione appunto del Green Pass, 2.668 casi di positività, 357 ricoverati in terapia intensiva, 40 decessi. Bollettino del 1 novembre 2021, 2.818 casi di positività, 364 ricoverati in terapia intensiva, 20 decessi. Bollettino del 14 novembre 2021, 8.544 nuovi casi, 453 ricoverati in terapia intensiva, 53 decessi. E quindi, ritenete ancora che il Green Pass serve a bloccare i contagi e che l'estensione del suo ambito applicativo sia efficace per contrastare il virus? I numeri non sono opinabili. I contagi stanno aumentando a vista d'occhio e lo avevamo già previsto sin da quando sostenevamo che l'obbligo vaccinale di fatto non avrebbe ridotto il rischio di contagiarsi. Siamo convinti che il tampone sia molto più efficace del dissipare di ogni dubbio circa la positività o meno di un individuo. Fermo restando l'importanza dei vaccini, per il quale chiediamo la gratuità dei tamponi fino a fine emergenza e di controllo degli anticorpi, che nessuno, sino ad ora, si è preoccupato di effettuare. A mio avviso il Green Pass dovrebbe essere rilasciato anche a chi non è formalmente né guarito né vaccinato, ma a un alto livello di anticorpi al SARS-CoV-2. Quanti pensano erroneamente di essere immuni solo perché si sono sottoposti alla somministrazione del vaccino? Tanti, troppi. Ed invece è proprio la mancanza in molti casi di sintomatologia grave a far passare in sordina i soggetti positivi che, a loro volta, continuano a contagiare gli altri. È un circolo vizioso che verrebbe meno con la gratuità dei tamponi che abbiamo già proposto in lotempore al fine di mantenere alto il tracciamento del virus. Per queste ragioni chiediamo l'eliminazione del Green Pass. Se i vaccini coprono per l'80-90% a seconda della tipologia del rischio di malattie recitive, soprattutto quelle più gravi, resta il fatto che in almeno il 10% dei casi i vaccinati possono infettare e reinfettarsi, anche se in forma lieve. È una misura pensata molto male. Per quali ragioni i lavoratori che effettuano la propria prestazione all'aperto o da remoto dovrebbero essere obbligati a possedere il Green Pass? È una misura di controllo irragionevole ed immotivata. Chiediamo anche la cancellazione dell'obbligo del Green Pass per i minori di anni 18. I minorenni devono essere tutelati da questa forma indiretta di obbligo terapeutico. Ci sono stati come la Croazia, il Portogallo, l'Irlanda, l'Islanda, la Norvegia e l'Ucraina, che non hanno autorizzato l'uso dei vaccini anticovide sui minori. Altri Paesi, tra cui Germania, Gran Bretagna, Svezia, Finlandia, Belgio, Olanda e Lussemburgo, hanno deciso di raccomandare la profilassi solo ai minori di anni 18 con fragilità, sconsigliandola agli adolescenti. Osservando la prassi italiana che spinge alla vaccinazione indiscriminata, gli altri Paesi staranno per caso incentivando la morte della propria popolazione più giovane, non è affatto plausibile. È inoltre assolutamente indispensabile che il Ministro della Salute, al termine della cessazione dello stato di emergenza e in ogni caso non oltre il 31 gennaio 2022, valuti i risultati ottenuti dall'applicazione delle disposizioni contenute in questo decreto legge, dandone comunicazione al Parlamento, anche alla luce dell'andamento dei dati epidemiologici e della campagna di vaccinazione. Basta con l'improvvisazione. Ritorniamo a discutere dove è il nostro luogo deputato, a far sì che ci sia un confronto vero, l'Aula, e quindi chiediamo fortemente che il Ministro della Salute venga a riferire in Aula. Il Covid-19 è qualificabile come un virus airborne, pertanto i luoghi più ad alto rischio di contagio sono da considerarsi gli ambienti confinati, aperti al pubblico, come i mezzi di trasporto, gli uffici pubblici, le scuole e le università. Ogni individuo, nella fase di respirazione, emette delle goccioline ultrafini, non visibili ad occhio nudo, che restano sospese nell'aria anche per lungo tempo. Se ad espirare questo aerosol sono soggetti infetti, le droplet possono contenere un virus, tra cui appunto SARS-CoV-2, influenza. In assenza di ricambi d'aria o di sistemi di ventilazione meccanizzata, la concentrazione in aria ambiente in queste goccioline può aumentare di molto e con esse il rischio che abbiamo di respirare aria potenzialmente infetta. Diversi studi a livello internazionale hanno evidenziato che l'inalazione di livelli elevati di CO2 può provocare la dilatazione dei vasi sanguigni nel cervello, ridurre l'attività neuronale e diminuire il flusso di comunicazione tra le regioni del cervello stesso. Se ne parla troppo poco, ma è davvero urgente agire per garantire un ricambio d'aria adeguato alle volumetrie dei diversi ambienti confinati e il monitoraggio in continuo della CO2. Trattasi di una semplice misurazione che consente di sapere il livello di rischio di infettarci quanto respiriamo aria in un ambiente chiuso, aperto al pubblico. Tali dispositivi devono essere validitati scientificamente e calibrati secondo le indicazioni emerse dalle ricerche scientifiche internazionali in materia. Consentire una misurazione continua e devono verificare la reale capacità e precisione nella misurazione, essere di facile lettura, oltre ad essere calibrati rispetto ai dettami delle ricerche scientifiche effettuate. Alcuni Stati nel mondo hanno elaborato delle linee guida che indicano le concentrazioni di sicurezza della CO2 ed oscillano dai 700 parti per milioni fino ai 1.000 ppm. Quando tali livelli di concentrazione sono inferiori ai 700 ppm, il rischio di respirare aria ispirata da altri soggetti potenzialmente infetti è inferiore all'1%. Per evitare di essere contagiati respirando aria ispirata, a sua volta da soggetti potenzialmente infetti, l'uso delle mascherine è sicuramente un sistema utile, ma deve trattarsi di una tipologia molto performante, ma non è sufficiente. Stessa cosa, dicasi, per il distanziamento interpersonale, che in caso di ambienti confinati risulta essere pressoché inutile. Ciò accade perché l'Aerosol, in ambienti chiusi, fa viaggiare il virus anche a una distanza ricompresa tra i 6 e i 9 metri. La soluzione migliore è quella di ventilare gli ambienti meccanicamente o manualmente e in questo senso i rilogatori di CO2 sono perfettamente efficaci in quanti indicano quanto l'aria inizia ad essere troppo concentrata. Vede, Presidente, l'etilometro. Chi è che non conosce l'etilometro? Serve per la messa in sicurezza e per la prevenzione degli incidenti stradali? Non possiamo non riconoscere la sua importanza nell'evitare incidenti mortali e pericolosi alle persone direttamente o indirettamente coinvolte. Dovremmo prendere esempio da questo strumento come mezzo per prevenire i contagi e la salubrità nell'area degli ambienti indoor confinati. La pandemia ci ha senz'alto colto impreparati, ma ad oggi non esistono più scuse. Questi dispositivi vanno necessariamente introdotti nel sistema, devono diventare strumenti d'uso quotidiano nelle scuole, negli edifici pubbliche, nelle università o nei mezzi di trasporto. Trattasi di sistemi che consentirebbero di raggiungere un netto miglioramento della qualità dell'aria e conseguentemente della vita dei cittadini italiani, non solo per via della pandemia, ma anche per la prevenzione di altri virus, di infezioni come l'influenza e i malanni stagionali. Queste considerazioni sono frutto di quella argomentazione che purtroppo viene sempre meno all'interno di commissioni e di un'aula come questa, per un confronto che può dividerci politicamente ma invece potrebbe unirci con l'aiuto della scienza per poter arrivare a determinate soluzioni, che magari in questo momento non si vedono, oppure non si sono viste, oppure magari si commettono degli errori di valutazione. Ecco, è passato tanto tempo, troppo tempo, e abbiamo la possibilità invece di poter incidere positivamente per migliorare la qualità della vita dei nostri cittadini. Ed è quello che stiamo cercando di fare, anche come forza di opposizione, semplicemente perché in una democrazia è corretto che ci sia un confronto. E quel confronto nel discorso purtroppo è venuto meno. Ero presente in commissione e mi è dispiaciuto solamente la lettura degli emendamenti e il doverseli vedere bocciati, anche senza un confronto. Quel confronto che oggi una discussione generale sicuramente fa bene, perché ci permette quantomeno di discutere sui punti di vista. Non deve dividerci, ci deve aiutare, aiutare a capire quale sono quelle soluzioni che magari sono davanti a noi e non vediamo. Ne abbiamo segnalata qualcuna, abbiamo scritto degli emendamenti convintamente, continueremo a fare il nostro percorso di opposizione, ma soprattutto non l'opposizione per politica, ma l'opposizione perché per noi esiste un'alternativa. L'alternativa non è certo il Green Pass. Il Green Pass è uno strumento che invece, dal nostro punto di vista, non dovrebbe esistere e limitare la libertà delle persone, come abbiamo detto. Quello che invece dovrebbe garantire è semplicemente una vaccinazione, seppur complessa, però che venga estesa alla popolazione nella maniera adeguata, con una considerazione importante per quanto riguarda i bambini, soprattutto nelle fasce fra 5 e 11 anni. È una discussione che sicuramente dovremmo per forza fare, perché noi stiamo parlando delle generazioni future. E questo è quello che dovremmo lasciare. Una giusta discussione, un giusto confronto, un'azione politica degna del suo nome. Grazie, Presidente.